Ciao da Absim! Molto interessante l'intervista video live sui social di Fabrizio Biasin a Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter. Inter campione d'Italia, stagione conclusa, mancano le ultimissime partite, ma manca anche qualche giorno, quindi per iniziare veramente a programmare formalmente, in maniera ufficiale, la prossima stagione. Ci sono ancora delle situazioni in sospeso e quindi innanzitutto fatemi dire che è una buona iniziativa. Io non sono ambiente Inter, quindi tante cose sicuramente mi sfuggono e quindi non ho quella percezione anche a livello emotivo e sentimentale di quello che succede all'Inter e di quella che è stata anche la storia recente, però da esterno posso dire che è una buona iniziativa quella di concedere un'intervista così, di concedersi a un'intervista così, aperta, chiacchierata, amichevole, però approfondita, però approfondita, facendola anche sui social, anche se non c'è stata interazione, perché non c'è stata lettura di commenti, non è stata organizzata in questo modo, ma è anche un modo che può funzionare questo qui, di comunque mandarla in diretta sui social, quindi per darla come libera fruizione a tutti, in maniera assolutamente ampia e aperta, con la possibilità quindi di un confronto, comunque con la possibilità di un confronto e aprendosi comunque ai tifosi. Tifosi ancora festanti, tifosi ancora carichi di emotività, ancora carichi di entusiasmo, giustamente un'inter campione d'Italia alla grande, con una grandissima stagione e con tante aspettative, anche con tanti aspetti rassicuranti poi per il futuro, tante aspettative per la prossima stagione e quindi anche tante domande sulla prossima stagione. Allora si è parlato di mercato futuro, di mercato presente per quanto riguarda anche i rinnovi e le conferme o eventuali addi, quindi della costruzione comunque della rosa dell'Inter sulla base di quello che c'è, il futuro anche per quanto riguarda i giovani e un occhio, anche un po' uno sguardo al passato, al recente passato, a certe dinamiche. Mi è sembrata un'intervista abbastanza aperta, nel senso non si è evitato di andare in certi posti, c'è stata anche tra virgolette la domanda scomoda su Lukaku, scomoda non che fosse chissà cosa di scabroso, ma il punto è che cosa ha oggi di scabroso l'Inter? La questione dei debiti, la questione della proprietà, ma la questione della proprietà non riguarda il management, non riguarda la gestione operativa. Ci sono altri club invece che hanno scheletri nell'armadio con le ante spalancate, quindi ben visibili e lì è difficile andare a toccare ancora dei nervi scoperti e delle ferite aperte. Per quanto riguarda l'Inter non si hanno notizie di contrasti interni, dissidi, divergenze, separazioni interne di una dirigenza dilaniata come si ha in altre società, dove c'è chi è appena arrivato e chi deve andare via. Sliding door, porte continuamente girevoli, più che sliding door, proprio porte girevoli che girano continuamente e non girano neanche solo le porte, parlando della tifoseria. Quindi è stato possibile e anche facile, tra virgolette, tutto sommato fare un'intervista che fosse aperta, che andasse a toccare i temi che sono interessanti poi per i tifosi, ma senza nascondersi. Senza nascondere fondamentalmente nulla. Questa è la mia percezione da esterno. Poi sicuramente i tifosi dell'Inter potrebbero anche dire no, non mi è piaciuta perché avrebbero potuto anche affrontare quest'altro argomento, su questo ci sono andati solo di passaggio. Però diciamo che anche per quello che è l'appassionato di calcio è molto interessante che ci siano contenuti del genere. Sarebbe bello che anche altre società, all'estero succede, all'estero succede tranquillamente, che altre società si aprissero a interviste di questo tipo, che non fossero sempre soltanto i canali istituzionali nel senso di giornalistici, nelle occasioni istituzionali o addirittura solo le emittenti televisive, spesso a pagamento, a fare queste interviste. Perché diciamo anche un'altra cosa. Questa è un'intervista che ne fai una all'anno oppure meno ed è aperta, ampia su tante tematiche e quindi anche su cose che sono già state più che su cose che devono essere. Le interviste invece che vengono fatte di settimana in settimana ai vari direttori sportivi spesso sono a pagamento. È chiaro che il tifoso che paga per guardare la partita nel pacchetto ha anche l'intervista. Però chi invece non guarda la partita e vorrebbe solo sentire veramente che cosa ha detto e guardare che cosa ha detto un direttore sportivo, fatemi dire, un po' per tutta la categoria dei tifosi, che è inaccettabile che le interviste rilasciate dai tesserati alle emittenti televisive non siano pubblicate gratis, gratis, anche indifferita magari, non per forza in diretta, ma indifferita per tutti. In alcuni casi lo si trova su Sky, su Sky quasi sempre direi, quasi sempre trovi comunque il video sul sito che lo puoi riguardare anche a distanza di tempo. Ma Dazon per esempio questa cosa non la fa, non la fa o non mi pare che la faccia e quindi è bello che ci siano queste occasioni di incontro e di confronto comunque tra le richieste e le domande dei tifosi da una parte e le risposte e le argomentazioni della dirigenza dall'altra, che lo facciano anche altre società, chi più chi meno, chi con uno strumento, chi con un altro e vedremo. Per quanto riguarda i contenuti ci sono tante cose interessanti, sicuramente qualcosa mi sfuggirà, però mi andava di dire due cose su alcuni aspetti. Interessante per esempio quello che dice Ausilio per quanto riguarda la costruzione della rosa, non devono essere troppi giocatori. Ora ovviamente Ausilio è un po' in mezzo a vari fuochi perché c'è l'allenatore Inzaghi che sicuramente ha già detto che lui confermerebbe fosse per lui tutta la rosa senza rinunciare a nessuno, però serve ampliarla. L'ha già detto, bisogna andare al mondiale per club, quindi da una parte c'è l'allenatore che chiede più giocatori, dall'altra parte c'è la società che ovviamente stringe i lacci per quanto riguarda le spese. Nel mezzo c'è Ausilio che deve, diciamo, ottenere le redini di tante cose, non di tutto ma di tante cose e quindi ha la sua visione e mentalità con cui cerca di guidare anche l'organizzazione e cerca anche di guidare quella che è l'operatività dell'allenatore dello staff. Nel senso che ha detto, per chi non l'ha sentita ma comunque invito a recuperare, vi lascio il link in descrizione tra i vari social dove è stata pubblicata la video intervista di circa mezz'ora, che la rosa dovrebbe essere composta fondamentalmente di 22 giocatori, 23 compreso il terzo portiere, esageratamente 24-25 senza andare oltre. Perché? Perché dice i tifosi ovviamente vedono quegli 11 che vanno in campo, quei 10 giocatori di movimento che vanno in campo, più i cambi, oggi con i cambi si fanno tanti cambi, possono giocare in tanti, ma in allenamento, questo è un tema interessante, da approfondire perché io onestamente non so come funziona nelle società di calcio, come si allenano ad alti livelli, però quello che prendiamo come testimonianza di Ausilio, lo prendiamo per buono, è che a livello di cicli di preparazione delle partite negli allenamenti settimanali, gli allenamenti vengono organizzati in 10 contro 10, tolti i portieri 10 e 10, è difficile aggiungere altri, quindi c'è il rischio anche che con una sovrabbondanza di rosa, al netto degli infortunati ovviamente, quindi il problema più che altro è quello, ma in questa stagione l'Inter di infortuni ne ha avuti veramente pochissimi, sono stati benissimi, infatti si ironizzava anche sull'infortunio di Ausilio al Polpaccio per festeggiare lo Scudetto, però quando ci sono gli infortuni bisogna anche tenere comunque conto di questa, di questa evenienza che c'è sempre tutta la società, ma al netto degli infortuni c'è il rischio che ci siano dei giocatori in eccedenza che stiano fuori, che non partecipino tanto attivamente a quelli che sono i cicli di allenamento e di preparazione delle partite, che sono poi la squadra, che sono poi quello che fa la squadra, e quindi, e questo è un tema importante, che magari il tifoso non ci pensa quando vuole tanti giocatori, all'esterno non ci pensano, però evidentemente ci sono società di calcio, in questo caso specifico l'Inter di Ausilio, che operano in questo modo, ragionano in questo modo, e quindi non bisogna esagerare, con i giocatori altrimenti più ne prendi meno giocano, anzi più ne prendi meno si allenano e meno sono effettivamente funzionali, questo è un tema. Altro tema, vado un po' così per ordine sparsa come mi vengono in mente, Di Marco, Di Marco, dice è stato difficile credere in Di Marco, perché da anni all'Inter, per anni in prestito, 5 anni in prestito, era anche tifosissimo dell'Inter, sempre stato tifosissimo dell'Inter, da più giovane andava anche in curva, e poi però ci sono stati, ha detto non faccio nomi, dirigenti o allenatori, rispetto a giocatori che adesso sono titolari nell'Inter, Biasin cercava di strappargli Darmian, ma Ausilio non ha risposto su quale fosse, dice due in particolare, che ci è stato detto, non sono da Inter, non vestiranno la maglia dell'Inter, e poi invece ti ritrovi Di Marco così, però ha elogiato Inzaghi su Di Marco, dicendo su Di Marco in tanti abbiamo, ci abbiamo comunque creduto, però ogni anno faceva il ritiro e poi andava via, chi è stato veramente il mago, chi veramente va elogiato in assoluto per quello che ha visto in Di Marco è Simone Inzaghi, perché le qualità di Di Marco si conoscevano, ma Inzaghi ci ha visto qualcosa in più, ed è stato importante, è stato importante, dice Ausilio, anche il lavoro di Juric nel Verona, il Verona di Juric con Di Marco che ce lo ricordiamo, ecco allora, vedi quante cose vengono fuori, quanti aspetti si devono organizzare in una società di calcio tra costruzione della rosa e poi squadra da mettere in campo, c'è anche un tema e allenamenti da fare, c'è anche un tema interessante per quanto riguarda l'attacco e ci arriviamo, valorizzazione dei giocatori, l'allenatore conta, l'allenatore conta, e vedi, cioè qui siamo fuori dalla propaganda, siamo al fuori dai denti, siamo ad una chiacchierata amichevole dove uno si racconta e racconta veramente quello che fa, veramente quello che fa senza chiacchiere, quindi tutto molto interessante se spostato anche su altre società di calcio e appunto per quanto riguarda gli attaccanti, lì c'è stato caos ovviamente, Biasini ha cercato di strappargli, perciò dico l'intervista anche fatta bene, di strappargli che magari se Lukaku fosse rimasto non sarebbe stato preso Pavard, Ausilio non risponde su questo o comunque glissa e dice in realtà l'unica cosa che sarebbe cambiata era Dzeko e quindi non ho capito bene, pare di aver capito che Turam sarebbe stato comprato l'anno successivo, non lo so, sarebbe stato, o forse ha detto, perché sarebbe arrivato comunque a giugno, però forse allora quello che sarebbe cambiato era Arnautovic, non sarebbe stato preso a quel punto Arnautovic, il problema Lukaku della scorsa stagione su cui Ausilio non voleva tanto tornare, se l'è cavata con un resoconto sintetico dicendo che comunque la cosa è stata risolta anche in maniera meno conflittuale di quanto si sia raccontato, il problema Lukaku è stato proprio di organizzare l'attacco perché Lautaro c'era, Dzeko era stato praticamente già mandato via, avrebbero rinnovato Dzeko, questo Ausilio lo sanno tutti che Dzeko sarebbe rimasto un altro anno, se Lukaku, se avessero saputo che Lukaku non sarebbe tornato, perché il punto è questo, Lukaku doveva tornare, ricordiamolo, cioè doveva praticamente restare ma tornare comunque, ed infatti poi è andato alla Roma ma per qualcuno doveva andare alla Juve, per qualcuno per un mese intero l'estate scorsa doveva andare alla Juve, poi è andato alla Roma e adesso anche questo stoccata magari alla Juve poi su Giallò, quello poi ci arriviamo anche sul mercato fatto, non fatto, su certe scelte, a quel punto non resta, cioè non ritorna ma Dzeko nel frattempo era già andato via e allora hanno dovuto, in che modo, quello è interessante, in che modo, dice noi prendiamo Turam che sapevamo fosse fortissimo, che fosse molto bravo e dice ovviamente ci sono giocatori che vengono seguiti anche per due o tre anni dagli scout prima dell'operazione. Secondo me due o tre anni sono anche pochi, cioè se il tempo, aggiungo questa parentesi, se il tempo maggiore che Ausilio può testimoniare di durata dell'osservazione di un giocatore prima che venga acquistato dall'Inter è due o tre anni, forse ci sono club che seguono anche per più tempo, è chiaro che poi a un certo punto vai e fai l'operazione, però per dire che il mercato non è sempre estemporaneo, come per certe società di calcio, per molte, per la verità, e dovrebbe essere invece diverso, dovrebbero seguire giocatori per un certo tempo per poi convincersi di quei giocatori e andarli a prendere, poi le occasioni capitano sempre, ma se fai mercato in extremis, in maniera estemporanea, sei vittima dei procuratori che ti propongono dei giocatori e quindi non c'è una grande progettualità, quindi una società seria con una progettualità studia i giocatori per anni, quindi conoscevano Turam, sapevano che sarebbe stato utile molto più come punta che come esterno, ma avevano il dubbio di quanto tempo Turam ci avrebbe messo per sprigionare le sue caratteristiche e allora il ragionamento, poi può essere condivisibile o no, può essere condivisibile o no, ma c'è una raccomandazione dietro, che cosa? Prendiamo due giocatori che conoscono bene l'Inter, conoscono bene il campionato italiano e che sono già pronti in modo tale che se Turam non tira fuori quello che sa fare in breve tempo siamo coperti, questa è strategia. Alla fine non è stato necessario perché Turam ha fatto vedere quello che sapeva fare alla grande molto presto, è venuto fuori molto presto. Come è venuto fuori molto presto Bissek e su questo ausilio dice abbiamo piste simili, abbiamo giocatori interessanti simili da questo punto di vista, ora per il futuro dell'attacco elogia Darnatovic che si è messo in molta disposizione, poteva segnare di più, poteva giocare meglio, ma siamo estremamente soddisfatti, ha detto anche per quello che noi dirigenti, allenatori e staff vediamo che lui fa nello spogliatoio che non emerge, ma quello resta fondamentale ed è giusto. Qui siamo praticamente in quello che vive e respira una squadra di calcio lì dove funziona, lì dove è operativa, al di là delle luci, al di là delle chiacchiere fuori dai microfoni, anche nelle relazioni umane e amichevoli pur con la professionalità e poi appunto per quanto riguarda l'attacco se andare con il quinto attaccante. Qui Ausilio ha dato una risposta abbastanza divertente, in che senso che gli è stato chiesto si continuerà quindi con quattro attaccanti o si salirà a cinque attaccanti perché Inzaghi ovviamente vuole il quinto attaccante e c'ha ragione perché ha fatto una stagione veramente pesante dal punto di vista delle aspettative e degli impegni con quattro attaccanti pure meno visti gli infortuni appunto di Arnautovic, che è stato quello a memoria più infortunato come, a parte quadrato ovviamente, come tempo e come numero di infortuni e comunque Sanchez, per l'età che hanno, non sono sempre disponibili anche se su questo Ausilio non mi è piaciuto molto, dice io non guardo la carta di identità a Mkhitaryan, appunto anche a Cerbi, Arnautovic, Sanchez, se giocano così io me li tengo tutta la vita perché sono assolutamente affidabili. Eh però devi considerare che l'affidabilità è data dall'esperienza ma l'esperienza ha un costo che è quello dell'atletismo. E quindi, cosa dicevo per quanto riguarda l'attaccante, appunto ha detto valuteremo poi a fine stagione anche con il mister, ma in questa stagione siamo andati bene con quattro, non vedo perché cambiare. In pratica ha già detto di no. E qui torniamo al discorso di Ausilio che comunque sta in mezzo tra le esigenze tecnico-sportive dell'allenatore che vorrebbe ovviamente tutto il possibile e la dirigenza e la società che invece stringe un pochino. Però poi ci sono i giovani per quanto riguarda l'attacco e non solo. Quello che mi pare di capire a livello di progettualità dell'Inter, e qui giustamente i tifosi potrebbero anche essere contrariati, è che per quanto riguarda i giovani ci si dà ancora tempo davanti. Cioè non c'è la percezione dell'urgenza di riportarli in prima squadra, quelli che sono in prestito, Carboni, Oristanio, Gli Esposito, quindi vari giocatori interessanti che l'Inter comunque ha, su cui ha comunque investito e che sono comunque il futuro dell'Inter. Ma quando comincia questo futuro? Non si è parlato in questo senso di Buchanan, altro tema, non si è parlato neanche tanto dello sbocciare o meno di Aslani che comunque non ha giocato tantissimo. Anzi, a questo punto deduciamo che non è neanche tanto Inzaghi che ha questa mentalità, possiamo dire, vecchiarda. Ce l'ha pure Ausilio, Marotta lo sappiamo da tempo e infatti si è parlato pure dei parametri zero, dice non è scandaloso dare e largire diciamo delle commissioni importanti, dice i giocatori importanti, i giocatori forti esigono commissioni importanti, quindi una grossa spesa per quanto riguarda i procuratori. I giocatori forti, a prescindere dalla formula, poi ovviamente se li prende a parametro zero non c'è nulla di scandaloso nell'andare a pagare qualcosa in più di commissioni anche per riconoscere eccetera eccetera. E dice è stato molto più facile prendere Cialanolu che Mkhitaryan perché per un discorso di valori di Mkhitaryan stava bene alla Roma, non voleva andare via però forse la Roma si è mossa in ritardo e quindi l'Inter è arrivata prima. È arrivato prima invece il Milan perché l'Inter aveva praticamente preso le Ao, anche cosa di cui si è parlato a margine di questa intervista ma non ha dato altri spunti su questo e poi dice giustamente non possiamo prendere tutti i giocatori che vorrei prendere, ce ne sono tanti, che mi piacciono, che mi piacciono tanto e che vorrei prendere, per esempio Bremer, per esempio Gialo, però non possiamo prendere tutti, su Gialo dicevo stoccata perché dice noi Gialo lo volevamo prendere, stoccata al giocatore, ma anche un po' alla Juve. Noi lo volevamo prendere per lasciarlo in prestito, c'erano diverse società che l'avrebbero preso in prestito per sei mesi e noi l'avremmo poi preso, prenderlo anche a gennaio perché Gialo andava in scadenza adesso, la Juventus ha acquistato Gialo che andava in scadenza e l'ha pagato ma l'avrebbe potuto prendere a zero successivamente. Forse l'ha preso proprio per toglierlo alla concorrenza dell'Inter, per inserirsi. Un discorso che abbiamo visto anche per Zaccaria dove l'Inter non c'entrava ma c'entrava il fatto due anni fa di andare a prendere pagandolo per il cartellino un giocatore che non aveva, che aveva il contratto in scadenza e invece dice Gialo ha preferito andare subito in una grande squadra, non passare per il prestito e quindi però non sta giocando, non ha mai giocato, non ha mai visto il campo. Discorso breve era anche lì, bastoni tra le ruote della Juventus, anche lì due stati fa, parliamo di un giocatore che doveva andare all'Inter per molto meno, 30 milioni con 3 di stipendio e invece 50 milioni con i bonus con 5 di stipendio, insomma su quello la Juventus è cambiata, l'Inter evidentemente no, quello che riesce a fare fa, quello che non riesce a fare è cerca di metterci con la competenza e la professionalità per trovare dei ripieghi, per trovare delle alternative più che ripieghi e direi che le cose stanno andando da questo punto di vista benissimo. Non c'è bisogno però dice di nuovi difensori, anche su questo magari la tifoseria non è tanto d'accordo, ricordiamo la questione Skriniar che sicuramente non è stata affrontata benissimo all'epoca, si poteva gestire diversamente, poi ci sono anche le componenti umane che queste interviste fanno venire fuori, dei giocatori, le pretese a volte dei giocatori che sono insaziabili o che sono a volte anche fatte di scorrettezze o di scarsa chiarezza e poca onestà, possiamo parlare di Skriniar, possiamo parlare di Lukaku, poi alla fine però ti ritrovi con Pavard, ti ritrovi anche con Bissek, ti ritrovi comunque con Darmian estremamente affidabile e poi appunto il discorso di Marco, anche a Cerbi, la crescita se vogliamo di bastoni, ma magari per i tifosi può essere interessante ambire ad altri giocatori, quello che dice Ausilio è fondamentalmente, mettendo anche le mani avanti, non vi aspettate grandi colpi perché qualcuno si comprerà, però sarà un mercato come siamo abituati a farlo quasi a costo zero, cioè intervenendo dove serve per puntellare, per dare dei piccoli rinforzi appunto dove serve, visto che la squadra funziona benissimo e a livello economico non si possono fare grossi investimenti o non si vogliono fare grossi investimenti e in questo senso tema anche, toccato da Biasin, Montengaggi ma Ausilio non ha spoilerato nulla, rinnovo di Lautaro Martinez sicuramente c'è un problema di cifre, come sempre in questi casi perché si tratta di un capitano affidabile, di un giocatore importantissimo anche come valore proprio tecnico e nel pieno della sua carriera e quindi poi ci si lavorerà ma ci si sta già lavorando e infine per quanto riguarda Inzaki è stata molto interessante la risposta, non c'è proprio bisogno neanche di sedersi al tavolo, non importa il discorso biennale o triennale, non importano neanche tanto le cifre, alla fine della stagione in pochi minuti si fermerà il rinnovo di Inzaki. Per come l'ha detto direi che è abbastanza credibile e va anche a spegnere un po' di non tanto polemiche ma di dubbi sul futuro di Inzaki tra dichiarazione di Inzaki e dichiarazione di Marotta che c'erano state negli scorsi mesi e nelle scorse settimane. Mi fermo come racconto, diciamo discussione e commento di questa buona intervista e vi lascio lo spazio dei commenti per naturalmente le vostre opinioni. Vi ringrazio per l'attenzione e la fiducia, continuate a seguirmi sui miei tre canali Simone Absim, Absim Out e Absim Play, il nuovissimo canale dove trovate le dirette delle partite quindi Cronaca Live Calcio Giocato. Ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore. Grazie.